Questa esperienza è nata da un incontro tra il sottoscritto e Massimo Antonelli che mi chiedeva dei consigli su come costruire le ance per la charamella. Io nel mio piccolo ho cercato di consigliarlo in qualche modo. È nata questa, come posso dire, contaminazione di suonare obo e charamella insieme e da lì è nata questa idea della triosonata. E Massimo con un entusiasmo ha voluto in qualche modo cercare di rendere fruttifero questo incontro tra uno strumento praticamente classico, uno strumento popolare e il pianoforte.